E' stato inaugurato il secondo lotto dei lavori di riqualificazione del waterfront di Marpiccolo, dopo l'avvio dei lavori nel primo lotto due settimane fa nel tratto che parte da discesa vasto. I lavori partiti in questi giorni ammontano a circa 700 mila euro, sono iniziate le demolizioni e poi si passerà alla realizzazione delle nuove infrastrutture che comunque prevederanno l'integrazione con i prossimi interventi che riguardano la zona, in particolare il passaggio nei due sensi di marcia delle linee della BRT. All'avvio del cantiere erano presenti il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci e l'assessore lavori pubblici Matteo Giorno. Il cantiere prosegue, abbiamo due settimane fa avviato i lavori della prima parte, quella subito dopo discesa del vaso dove sono i giardinetti e oggi abbiamo iniziato le demolizioni in questa seconda parte del cantiere che è quella prospicente, la chiesa di San Giuseppe, Palazzo Dovedone dove insiste anche il cantiere di riqualificazione dell'immobile per lo studentato universitario. È una riqualificazione della parte che insiste davanti alla chiesa, verranno conservati due pezzi dell'area parcheggio, qui verrà riprodotta la vecchia torre che insisteva in questa zona e che veniva utilizzata per avere in vista ciò che arrivava dal mare, quindi verrà costruita una parte di aggregazione sociale che riprenderà il perimetro che si immagina fosse della torre e poi il cantiere continuerà con la riqualificazione della strada che appunto costeggia la chiesa di San Giuseppe, i marciapiedi e la strada e anche della scalinata della postiera della via nuova che arriva fino alla piazzetta sopra con via Duomo. Ci sarà in quel caso una pulizia delle basole tanto della scalinata quanto della piazzetta. È un unesimo cantiere di riqualificazione della città vecchia, stiamo lavorando con l'amministrazione Melucci, appunto il sindaco è venuto a verificare l'avvio dei lavori per mantenere tutte quelle promesse fatte in campagna elettorale, che promesse però non sono più perché di fatto si trasformano in cantieri e quindi siamo felici in così pochi mesi di aver avviato così tanti interventi in città vecchia. L'812 del Waterfront Mar Piccolo, Palazzo Novellune, Palazzo Troilo, Palazzo Amate, abbiamo terminato i lavori a San Gaetano, a breve partiremo a fine anno con Piazza Castello e Piazza Fontana e in ogni caso stiamo già tenendo conto in questi cantieri che sono partiti su via Garibaldi di quello che sarà l'intervento che si metterà in pratica per la realizzazione delle biaretti e quindi stiamo già adeguando parte dei cantieri al transito della BRT che proprio su via Garibaldi insisterà a doppio senso, sia per entrare in città vecchia e uscire a Piazza Fontana, sia per la linea che arriva da Porta Napoli ed esce sul ponte girevole.